No, buongiorno, 5 Stelle, però devo dire che i 5 Stelle in Parlamento hanno votato la stragrande maggioranza delle volte sui temi legati a immigrazione e sicurezza col Partito Democratico più che con la Lega. Dopodiché, se si ravvedono rispetto all'euro-opposizione Benvenga, ogni giorno perso penso che sia un giorno dove la situazione diventa ancora più difficile. Tengo a sottolineare oltretutto che il voto espresso dai cittadini è la chiara dimostrazione che capisco che il mantra è chiamarla accoglienza. La verità è che i cittadini sono accorti che questo si tratta, nella migliore dell'ipotesi, di un business e parlo nella migliore dell'ipotesi. Perché io voglio ricordare che legando il tema immigrazione al tema sicurezza, mi auguro ovviamente che tutti vengano qua per portare fiori e abbracciare le persone, sono convinto che così non sia. Penso che non ci siano soltanto quelli che facevano del bene nell'Africa subsahariana, ma qualcuno anche scarpato dalle carcere libiche e tunisine durante le primavere arabe. Però sta di fatto che chi viene qua sapete cosa vuol dire fare l'identificazione? L'identificazione vuol dire che viene preso un'impronta digitale, viene scritto un nome 99% delle volte inventato, tutti nati il primo gennaio, quindi l'identificazione serve per sapere se uno viene riidentificato, sappiamo dove è sbarcato e da quanto tempo in Italia. Ma non sappiamo la sua storia pregressa, cosa ha avuto alla genialità il governo di fare l'accoglienza diffusa.